ragazzi praticamente in questo video ho insomma messo un iphone x falso infatti falsificato sopra il muretto del parco giochi e poi ci siamo messi sulle altalene e insomma quell'iphone x finto rimaneva lì in modo che qualcuno che passava vedevamo se magari se lo rubava e abbiamo nascosto la telecamera in mezzo alle fratte cioè in mezzo alle fratte abbiamo nascosto la telecamera e noi stavamo sull'altalena fingendo che eravamo due comuni cittadini va bene vi lascio il video ragazzi ovviamente cioè il video siccome è durato cioè il telefono è stato lì in mezzo alle fratte per 5 6 minuti a registrare e ve lo accorcio proprio quando arrivano i ragazzi ve lo faccio vedere ok ok no 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 però secondo me se lo prendevo a spendo si capiva no veramente sembra da dietro no che fai la polizia è simone è vero una è un scherzo e non scherzo ho trovato per te lo stavo ho preso Sì, sì, compa, ma a frirsi, questo c'è vero bello.